Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali del 20 e del 21 settembre prossimi, anche Italia in Comune scende in campo con i suoi candidati. Parteciperà alla competizione elettorale, infatti con una propria lista, che avrà una forte impronta bitontina. Siamo felici di essere riusciti a presentare una forza completamente nuova che presenta una lista regionale propria. Abbiamo creato un team eccezionale e mi fa particolarmente piacere che sia stato creato con una forte impronta bitontina. Credo che sia la prima volta che da Bitonto parte la regia politica di una lista regionale intera. Il partito del sindaco a Baticchio, infatti, avrà ben due candidati dalla città dell'Olivo. Si tratta di Domenico Nacci e Maria Grazia Gesualdo. C'è un'opportunità che dobbiamo giocarci come centro-sinistra di poter avere un rappresentante in consiglio regionale. Alle spalle c'è un movimento che si è strutturato e lo abbiamo visto durante la competizione della scorsa competizione europea. Quindi sappiamo che l'Italia in comune è presente su tutta la regione. Nel mio caso interessa la struttura provinciale e io sono convinto si possa far bene. Sarò sempre al servizio dei cittadini. Ringrazierò e ringrazio tuttora ovviamente il mio partito per avermi indicata come candidata. Ringrazio il movimento giovanile che vi supporta in qualunque momento. Sarà una bella battaglia. Speriamo di viverla in piena serenità e serietà.